Buonasera a tutti, oggi abbiamo l'onore di avere nuovamente qui con noi la professoressa Eva Cantarella che chiude il ciclo miti senza tempo da lei curato insieme alla professoressa Nicola Bassallo. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Groba Visiting Professor all'New York University Law School. Allora, vediamo se riesco a fare meglio. Tra le sue opere ricordiamo Norma e Sanzioni in Omero, Contributo alla protostoria del diritto greco, Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, i supplizi capitali, origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma, il ritorno della vendetta, pena di morte, giustizia o assassinio, i comandamenti, non commettere adulterio. Per Feltrinelli ha pubblicato Passato Prossimo, donne romane datate già sul Pissia, Itaca, eroi, donne potere tra vendetta e diritto, l'amore è un Dio, il sesso e la polis, dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma, l'ambiguo malanno, condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana, l'edizione rivista dei supplizi capitali, Pompei è viva, perfino Cattone scriveva ricette, i greci, i romani e noi. Ha tradotto le canzoni di Bilitis e di Pierre Luis, nella colana digitale Zoom è uscito l'aspite di Chiolopatra. Il suo libro ultimissimo, sempre per Feltrinelli, è Non sei più mio padre, il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico. Passo adesso volentieri la parola alla professoressa Nicola Vassallo. Grazie. Grazie a voi per essere qui, numerosi, sono commossa di avere Eva tra di noi, ho curato questo ciclo, che è un ciclo che mi pare che abbia avuto un buon riscontro da parte vostra, insomma, spero che vi sia piaciuto. Di solito preparo un discorso per introdurre il mito di cui si parlerà. In questo caso non lo faccio, si parte da un mito che si trova nel protagora di Platone e il tema lo conoscete, cioè il problema è quello della vergogna, ma non solo della vergogna. Non voglio dirvi altro perché Eva è decisamente più brava di me. Così passo la parola a lei. Grazie Eva. Grazie a te Nicola. E prima di tutto devo dire che io mi devo scusare con Nicola, con gli organizzatori e con voi per aver rinviato un incontro precedente, purtroppo sono stata male, sono stata male e non ho potuto veramente venire. Vi ringrazio molto di essere venuti, nonostante oggi a sentire. E comincio a parlare di questo, di questo, di questo, dell'argomento che avevo scelto per oggi, che è il tema è la vergogna tra mito e politica. Ed è all'interno di questo, di questo ciclo dei miti, è vero, devo, 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 all'interno di questo ciclo dei miti senza tempo, è ovvio che cominci a parlare, cominci a parlare del mito, per poi arrivare alla vergogna, a vedere i rapporti e vedere quello che questo ciclo, il rapporto fra mito e vergogna ci può insegnare. Ci sentite? No, non tanto bene, aspettate un minuto. Così? Il tecnico può alzare il volume? Così è meglio? Allora, il mito del quale vi voglio parlare, come Nicola vi ha detto, è un mito che si trova nel Protagora di Platone e che Platone fa raccontare al sofista Protagora, dal quale appunto il dialogo prende il nome. Ed ecco il racconto brevemente di questo mito. Siamo ai 320 e seguenti. Allora, Protagora racconta che c'è stato un tempo nel quale sulla terra, nel mondo, non sulla terra, nel mondo esistevano solamente gli dèi. La stirpe umana è venuta in un momento successivo. È venuta un momento successivo, naturalmente per volontà degli dèi, i quali un bel giorno, Zeus in particolare, decise a un personaggio, nel quale poi dirò qualcosa di più, Prometeo, di forgiare un essere umano dal fango, dalla terra. E poi ordinò a Protagora e a suo fratello, scusate, a Prometeo e a suo fratello, che si chiamava Epimeteo, di fornire a questi nuovi esseri le qualità di cui avevano bisogno per sopravvivere. Prometeo, ecco, diciamo qualche parola su Prometeo. Prometeo era un personaggio molto interessante. Era figlio di un titano e di una ninfa. Una ninfa non meglio precisata, le fonti non ci dicono esattamente chi fosse, ma quello che importa è che è di origine divina. È un dio, è un immortale. E un bel giorno, appunto, come vi dicevo, quando Zeus decide di mandare sulla terra anche degli esseri umani, in carica lui prima di forgiarlo e poi insieme al fratello Epimeteo di distribuire i beni. Allora, il fratello Epimeteo, fate attenzione ai nomi, uno si chiama Prometeo e uno Epimeteo. Prometeo e Epimeteo. Pro ed Epi. Prometeo è quello che vede prima, che vede lontano. Epimeteo è quello che vede dopo, come dire, il fratello un po' più stupido dei due e lo si vedrà nella storia che poi raccontiamo. Allora, Epimeteo convince il fratello Prometeo a lasciare a lui il compito di distribuire le qualità necessarie alla sopravvivenza agli uomini. E il Prometeo acconsente. Si mettono d'accordo, uno, Epimeteo, distribuirà le qualità e Prometeo poi controllerà la distribuzione. Ed Epimeteo si mette all'opera e fa una distribuzione molto attenta e molto accurata perché crea degli esseri, un momento, crea non solo gli esseri umani ma anche tutti gli animali, tutti i mortali, la stirpe dei mortali che sono uomini e animali. E distribuisce le cose in modo che riescano tutti a sopravvivere. Per esempio, quelli che sono più deboli hanno le ali e possono volare via. Quelli che sono più deboli in altro modo vengono forniti di caverne nelle quali possono ripararsi per difendersi dai vari rischi. E prosegue continuando a distribuire tutte queste qualità, tipo le pelli dure ad alcuni animali perché erano necessarie per difendersi dall'attacchio di altri, ad alcuni animali gli zoccoli, ad alcune pelli prive di sangue. Quindi le varie categorie di questi nuovi esseri sono forniti di qualità che consentono a tutti in qualche modo di cavarsela. Prometeo e Pimeteo fa tutto questo con grande entusiasmo solo che a un certo punto si accorge che è arrivato alla fine delle qualità che poteva distribuire. E c'è un problema, gli esseri umani, gli uomini non hanno ancora avuto le loro qualità. E che fare? Naturalmente a questo punto Epimeteo si rivolge a Prometeo che doveva controllare, Prometeo controlla e decide di risolvere la situazione. E la risolve come? Beh, questo lo sapete, probabilmente lo ricordate, sono ricordi leciali che abbiamo un po' tutti, ruba il fuoco agli dèi. Fino a quel momento il fuoco era qualcosa che avevano solo gli dèi. Gli mortali non esisteva sulla terra. Prometeo ruba il fuoco agli dèi e lo dà agli esseri umani. Io qui vorrei aprire una piccola parentesi che non c'entra col discorso su Eidos ma che mi sembra interessante oggi. Prometeo è un grande eroe civilizzatore. Prometeo poi subisce Zeus e si arrabbia molto per questa cosa, per il furto del fuoco e lo punisce. Non so se ricordate, c'è una famosa tragedia di Eschilo che si chiama il Prometeo incatenato, va in scena nel 490 avanti Cristo ad Atene, nella quale Prometeo viene incatenato, viene portato da Kratos e Bie, che sono forze e violenza, nel posto più lontano del mondo, ai confini del mondo abitato. E lì viene incatenato con catene di bronzo alla roccia in modo da non potersi più muovere, come dice Eschilo, senza poter più piegare ginocchio, senza più muoversi per l'eternità naturalmente. Tra l'altro, forse qualcuno di voi ricorderà che c'è un'altra versione del supplizio di Prometeo che si trova in Esiodo, dove c'è un avvoltoio che ogni notte o ogni giorno mangia il fegato di Prometeo che di notte ricresce e quindi questo supplizio, essendo Prometeo immortale, è un supplizio tremendo immortale, è un terribile supplizio che ritorna in Eschilo dove è incatenato, ma non c'è l'avvoltoio. Apro ancora un'altra piccola parentesi. Questo supplizio, che sembra così fantasioso, è un supplizio che esisteva nel diritto ateniese. Nel diritto ateniese i criminali peggiori, fra i quali i ladri, come Prometeo, venivano puniti con un supplizio che si chiamava apotympanismos. La parola viene da tympanon, che è un palo. E che cosa consisteva? I ladri e gli altri criminali di quel tipo venivano legati a questo tympanon, non del nome del supplizio, e abbandonati alle porte della città. Ci sono delle fonti che ci parlano di apotympanismos, che sopravvivono 10, 11, 12 giorni, abbandonati, a, naturalmente, tormentati dalla fame, dalla sete, dagli animali che li beccano. Ecco, e qui, tra l'altro, vedete, i cani che li mordono e forse anche gli avvoltoi che li beccano. Forse quella, che sembra un'incredibile fantasia esiodea, trova riscontro, cioè viene da questa immagine degli apotympanismos, che nelle strade di Atene venivano abbandonati lì e morivano. fra trocci tormenti. Perché ve l'ho detto? Ve l'ho detto perché è interessante vedere quando noi leggiamo la tragedia, non pensiamo a quanto, ci sembra sempre qualcosa di assolutamente fantastico, lo è assolutamente, ma trova riscontro anche nella realtà, è anche un documento importante per la conoscenza della storia, in particolare della storia del diritto. Il Prometeo incatenato ci racconta la storia anche dell'apotympanismos. Allora, Prometeo, poi viene punito per aver rubato il fuoco agli dèi. Ma adesso chiudiamo la parentesi sulla sua punizione e torniamo a lui. E allora distribuisce le qualità, a questo punto, grazie al fuoco gli esseri umani che erano rimasti senza le qualità sprecate da epimeteo, imparano una serie di cose assolutamente meravigliose. Perché? Perché imparano, conoscono l'agricoltura, imparano a domare gli animali, a cavalcare, a usare gli altri animali per gli scopi che servono loro. Insomma, grazie a questo dono comincia il progresso, la tecne, il progresso. E nel Prometeo incatenato di Eschilo, Prometeo è celebrato come colui, il Dio, che ha fatto questo grande dono agli esseri umani, grazie al quale Atene è arrivato, l'eroe grazie al quale Atene, che siamo nel V secolo a.C., che ha raggiunto il massimo della sua civiltà, ha potuto raggiungerla grazie a un dono divino. Perché Prometeo è pur sempre un Dio, un Dio attenzione, ecco, la cosa che vi dicevo, ci può essere anche un riferimento che ci fa pensare, come sempre nelle tragedie, a qualche cosa di attuale. Il tema del progresso e l'importanza del progresso, tecne, la parola greca, era fondamentale, era molto discusso in quel momento, come dimostra il fatto che circa 30 anni dopo ne parla Sofocle nell'Antigone, dove il primo Stasimo, che è famoso, dice niente è più, tra le tante cose mirabili che esistono al mondo, niente è più mirabile dell'uomo. Perché l'uomo, grazie alla tecne, è riuscito a fare, a fare tutto e racconta, dice esattamente le cose che aveva detto Eschio nel Prometeo incatenato, l'agricoltura, la capacità di imparare a navigare e via dicendo, e tutte le altre. Ma, attenzione, sono passati solo 30 anni, Sofocle poi dice, però, attenzione, perché l'umanità può usare il progresso verso il bene o verso il male. Qual è il bene e qual è il male? Non si sa, ma se orienta la tecne, il progresso, verso il bene, allora felice sarà la città e se invece l'orienta verso il male sarà una grande sciogura. Vedete la differenza, 30 anni di distanza e la percezione che il progresso, che in Sofocle non è più un dono divino, perché Sofocle dice, sì, ce l'ha regalato un Dio, ma poi il Dio non controlla il modo in cui noi lo usiamo. Questo lo decidiamo solo noi, esseri umani. Quindi troviamo per la prima volta un'etica della responsabilità, a proposito appunto dell'uso del progresso. Questo è un'altra cosa molto interessante che vale la pena dire quando si parla della tragedia. Vedete su quante cose attuali ci porta a ragionare. Va bene, chiudiamo questa parentesi, anche questa, e proseguiamo con la storia della nostra, della distribuzione dell'umanità dopo che Prometeo ha dato il fuoco. Nonostante tutti questi vantaggi dati dalla capacità, dalle capacità che l'uomo ha sviluppato grazie al dono del fuoco, quando gli uomini si incontravano continuavano a scannarsi fra di loro, litigare, rischiavano di estinguersi. A questo punto Zeus decide che bisogna fare qualcos'altro. Che cosa altro fa? Gli uomini cominciano a riunirsi in città, ma per vivere in città hanno bisogno di un'altra arte, che non sono più le arti della natura, ma l'arte politica. E l'arte politica viene regalata agli esseri umani da Zeus, facendo loro conoscere due cose che sono, ecco il mito di cui parlavo all'inizio, aidos e dicche. Aidos è la vergogna e dicche è la giustizia. Allora, per sopravvivere in una comunità politica, stiamo parlando della nascita della polis e della possibilità, gli esseri umani per sopravvivere devono riunirsi in comunità. La comunità è la polis, perché la polis sopravviva, è necessario che ci siano questi due beni, queste due qualità, queste due caratteristiche, che sono appunto vergogna e giustizia. Altri due doni di Zeus. Cosa sono vergogna e giustizia? E allora, per capire cos'è, cominciamo a dire che cos'è aidos, che cos'è vergogna. Per capirlo dobbiamo fare, spostarci, esportarci nel mondo degli antropologi, in particolare degli antropologi americani, statunitensi, che quando gli Stati Uniti erano in guerra col Giappone, decisero, una cosa molto intelligente, volevano vincere ovviamente il Giappone, decisero che per farlo dovevano conoscere la cultura dei loro avversari. Cosa che negli anni, nelle guerre successive, non hanno più fatto, purtroppo. Invece allora furono così intelligenti da creare un gruppo di studiosi, sociologi e antropologi, che si chiamava Culture at Distance, Cultura a distanza. In America questo gruppo studiò la cultura giapponese, in particolare tra questi studiosi c'è una famosa antropologa sociale, Ruth Benedict, che scrisse un bellissimo libro, The Crisantemo and the Sword, il Crisantemo e la Spada, tradotto anche in italiano, in cui spiega che la cultura giapponese è profondamente diversa dalla nostra, perché è una cultura di vergogna. La parola inglese è shame. La cultura di vergogna, spiega Ruth Benedict in questo bellissimo libro, è molto diversa dalle culture alle quali noi oggi siamo abituati prevalentemente, che lei chiama, distingue la cultura di vergogna e le culture di colpa. Nelle culture di vergogna, il rispetto delle regole sociali non viene ottenuto attraverso il divieto, ma attraverso la proposizione di modelli di comportamento, ai quali i membri del gruppo devono adeguarsi, modelli positivi di comportamento. Se non si adeguano a quei modelli positivi di comportamento, su di loro ricade la vergogna, un senso di inadeguatezza, un senso di, oggi diremmo di perdita di self-esteem, che è talmente grave in alcune società da determinare l'auto-isolamento, se non il suicidio delle persone che non si sentano all'altezza. Le culture di colpa invece, guilt cultures, sono culture nelle quali si impongono dei divieti e chi viola il divieto viene punito molto facile. Noi siamo in gran parte, fondamentalmente, la nostra è una cultura, è stata per molto tempo, adesso le cose stanno un po' cambiando, una cultura di colpa. Pensiamo semplicemente al diritto, il diritto che cos'è? Il diritto vieta, cioè il diritto criminale. Se uccidi vai in galera fino ai 22 anni, se non ci sono aggravanti e via dicendo. Quindi, divieto e punizione. Pensiamo alla religione, le religioni a quali noi siamo abituati. Se commetti un peccato vai all'inferno. Queste sono culture di colpa. Queste culture di colpa sono ispirate a valori profondamente diversi. Il Giappone, come vi dicevo, è una cultura di colpa. Del resto basta che pensiate ai samurai che fanno i karakiri, no? È proprio una cultura nella quale, e l'ordine sociale, attenzione, viene rispettato. I precetti sociali vengono rispettati ugualmente nelle culture di vergogna. Non è che la sanzione, la galera o l'inferno ti fa rispettare, è più coercitiva come minaccia che non la vergogna. Perché anche la vergogna può essere molto, molto coercitiva. Questo è quello che Ruth Benedict fa per spiegare la cultura dei giapponesi e i suoi concittadini americani. Il suo libro è stato pubblicato nel 1941, è stato anche tradotto in italiano. Allora, vi dicevo, questo era per spiegarvi un pochino Aidos. Quando vi ho detto Aidos è vergogna, Aidos, vergogna, ediche, i doni che Zeus fa alla polis, perché la polis possa sopravvivere. È Aidos. E in effetti, la cosa interessante è questa. E' che la cultura america, per molto tempo, non solamente in età, la cultura greca, per molto tempo, non solamente in età america, fu una cultura di vergogna. E volevo dirvi questo, la cultura di vergogna e la cultura di colpa, non esiste una cultura tutta di vergogna e una tutta di colpa. Sono i tipi ideali, chiamiamo cultura di vergogna, quella in cui ci sono più elementi di cultura di vergogna, cultura di colpa, quella in cui ci sono più elementi di una cultura di colpa. La cultura greca è una shame culture, è una cultura di vergogna. La vergogna si chiama in Grecia Aidos, questo Do. Per rendervi conto di come funziona e com'è importante in Grecia, basta che voi pensiate alla società omerica, ai poemi omerici, ai personaggi omerici. La società omerica è una società nella quale esistono dei comportamenti che devono essere tenuti, come in tutte le società, perché possono sopravvivere dei comportamenti che non devono essere tenuti. Come si ottiene questo risultato? Non c'è ancora il diritto. Voi sapete che i poemi scrivono, raccontano, ci danno per iscritto la sintesi di quello che è stata l'attività orale di poeti che per anni, prima che esistesse la scrittura, raccontavano ai greci le storie degli dèi ed eroi e raccontandone insegnavano loro come comportarsi. Cioè i poemi omerici hanno una funzione didattica molto importante, educativa molto importante. La paideia dei greci era affidata a questo. Allora, come si fa? Si propongono dei modelli di comportamento. Qual è il modello di comportamento dell'eroe? Lo sappiamo benissimo. E' Achille, che è il migliore degli Achei. Naturalmente i valori dei greci sono molto diversi dai nostri. Achille è una specie di serial killer, un uomo che, a parte alcuni momenti di umanità, un paio di volte, quando muore il suo amico Patroco, anche quando gli portano via Briseide, anche se lì è un po' perché è un fatto anche di onore che gli hanno portato via la schiava, ma comunque è crudele. Ricordate il suo comportamento col cadavere di Ettore dopo averlo sconfitto. Achille è il modello da seguire e Ulisse è il migliore. E gli altri chi sono? Sono Agamemnon, Menelao, tutti gli altri che ugualmente hanno un ideale. La cultura greca, la cultura america in particolare, è una cultura nella quale viene premiata la capacità di raggiungere i risultati. Allora l'eroe è quello che riesce a raggiungere i suoi risultati più degli altri, meglio degli altri. I suoi risultati, come vi ho detto, possono essere per noi molto poco nobili e molto belli, ma non importa. Vuol dire comunque essere, ecco c'è un verso che torna un paio di volte nei poemi, il giovane greco deve imparare a essere sempre il migliore, il migliore di tutti, il migliore in qualunque cosa. Se non riesce ad essere il migliore, il migliore vuol dire è una società estremamente competitiva, non esistono ancora dei valori collaborativi, non è ancora nata la polis, quindi non esistono ancora i valori, l'attenzione agli altri, la dicaiosune, tutti questi valori che nasceranno più tardi, la cooperazione non c'è ancora. Sono valori di competizione, l'eroe omerico deve essere quello che vince tutto. Se non vince, che cosa succede? C'è la vergogna, la vergogna che in Grecia si chiama, in Omero, si chiama appunto aidosso, c'è un verbo aideomai, io mi vergogno. Per esempio Ettore, quando Andromaca gli dice, Ettore morirà perché va a combattere contro Achille, Andromaca gli dice, va col figlio stianate sulle mura e gli dice non andare, non fare di me una vedova, di lui un orfano, eccetera, eccetera. E lui vorrebbe, non mi dice, non posso perché aideomai, mi vergogno delle troiane, dei lunghi pepli, mi vergognerei se io non facessi il mio dovere, che è quello di andare e vincere, crede lui, il nemico, poi in realtà non vincerà. Ecco, questa è la società omerica, questo vale anche per le donne, il modello positivo qual è? Lo sappiamo benissimo, è Penelope che ha 108 pretendenti, che è fedele a Ulisse, eccetera, eccetera. E il modello negativo qual è? Clitenestra, Clitenestra che è adulta e assassina. Allora la donna che è come Penelope è celebrata dalla, ecco c'è una parola importante, la demufemis, la voce popolare. Tutti diranno che lei, che quella donna è la migliore. Tenete presente, se voi vi leggete con attenzione Omero, vi accorgete che in Omero i personaggi non sono, non si dice mai che Achille è il più forte, Achille è detto il più forte. Penelope non è la migliore, Penelope è detta la migliore, e Clitenestra è detta l'adultera per antonomasia. I personaggi non sono, sono detti, sono creati dalla voce popolare, dall'opinione degli altri. Questo nel mondo omerico. questo tipo di, quando dalla società omerica si passa all'organizzazione politica e si introducono dei valori collaborativi, tra cui la giustizia, le cose cambiano un po', ma non completamente. La Grecia continua ad essere per secoli e secoli fondamentalmente una cultura di vergogna. Ecco, questo per quello che riguarda Aidosso. Ho cercato di spiegare il significato, perché poi la traduzione vergogna non è chiara se non si spiega tutto questo. E allora, Zeus dà come dono agli uomini, perché riescono a sopravvivere in una comunità, dà due doni, Aidosso e Diche. Aidosso è quello che abbiamo visto, Diche è la giustizia, che rientra invece già nel tipo di valori collaborativi. E sì, coesistono tutte e due, non in età omerica, ma nell'epoca della polis, coesistono. E adesso, veniamo un momento anche... Io non ho sempre in un guardo, da quanto sto parlando? Ah, va bene, va bene, va bene. No, 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 va bene, ho tante parole da dire, ma non vorrei... Va bene, va bene. Allora, diciamo, in Grecia ci sono due pali d'osse, e tra l'altro c'è anche una parola, un'altra, i elencheie, più o meno hanno lo stesso significato. Però c'è una piccola differenza, perché Aidosso è la vergogna che io stesso provo, se non sono all'altezza del modello. L'elencheie è invece la vergogna che getta su di te la voce, la demufemis, la voce popolare. Quella voce popolare che ti costruisce, che fa di te che tu sia detto in quel modo, il più forte, il più bravo, oppure il peggiore, eccetera, eccetera. Allora, questa distinzione fra modelli di cultura, modelli di cultura di vergogna, modelli di cultura di colpa, è stata formulata negli anni 30 e 40, è stata poi oggetto di rivisitazione e anche di qualche discussione da parte degli antropologi, ma fondamentalmente continua ad avere una grande importanza, nel senso che comunque il fatto che prevalga in una cultura la vergogna o la colpa è legata al fatto che quella cultura privilegi determinati lavori, che in un caso, nel caso della cultura di vergogna, è quello che i greci chiamavano l'atimè, l'onore, la reputazione potremmo chiamare, la reputazione. E invece in altre, la cultura di colpa, prevalgono sentimenti diversi come piuttosto il pentimento e il perdono. Quindi questo vi aiuta a capire come la cosa possa essere interessante anche oggi. Perché noi oggi siamo, ve lo dicevo prima, noi, insomma, in gran parte del mondo occidentale, siamo culture che si possono definire prevalentemente culture di colpa. Se non che alcuni anni fa, ormai decenni, è successo qualche cosa che ha cambiato profondamente le nostre culture. Questo qualche cosa è l'avvento dei nuovi mass media, in particolare della televisione. La televisione è molto interessante. Ci sono stati degli studi anni fa, i grecisti hanno cominciato a fare un parallelo fra la televisione e i serial televisivi e addirittura l'Odissea, i poemi omerici. Perché? Ma perché attraverso la diffusione della televisione passavano modelli di comportamento, passavano e passano modelli non solo di comportamento, anche modelli fisici, no? Modelli fisici, modelli di comportamento. Che ripetuti, 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 parlo solo della televisione, ma oggi potremmo parlare di tanti altri mezzi mass media che ovviamente si sono affiancati alla televisione, no? Che creano, hanno creato, hanno fatto nascere anche nelle nostre culture degli elementi di culture di vergogna. Tutto questo è stato studiato da McLuhan molti anni fa molto bene e non voglio soffermarmi troppo né sarebbe nessuna cosa di mia competenza, ma insomma è evidente, no? L'effetto che la televisione e i mice media hanno avuto sui nostri valori e soprattutto sul nostro modo di percepirci. Io molti anni fa... tra l'altro i serial televisivi presentano dei personaggi che sono caratterizzati anche fisicamente in modo molto chiaro, in modo da rappresentare il cattivo e il buono. Io ricordo moltissimi anni fa una serial televisivo che si chiamava Dynasty, parlo degli anni Ottanta, in cui c'era quell'attrice inglese John Collins che si chiamava Alexis, che era la cattiva, era per antonomasia la cattiva, era una donna che aveva divorziato dal marito, che aveva trovato un'altra donna che era invece molto buona, diciamo poteva essere... questa era Clitenestre e quella era Penelope, no? E di una cattiveria incredibile, non trovava... Ed era anche caratterizzata fisicamente come la donna aggressiva, cioè la televisione metteva gli spettatori di fronte a questi modelli psicologici, etici e sociali che si riconoscevano a vista d'orca. Uno guardava questa Alexis e capiva che era perfida assolutamente, la perfida Alexis. Ed altra parte. Questo ha portato a questa necessità di adeguarsi ai modelli, non necessariamente al modello cattivo, neanche al modello buono, ma insomma a dei modelli di comportamento che o anche di estetici, che se non si riusciva a raggiungere provocavano questa perdita di autostima. Un esempio banalissimo. Pensate alla scheletrica magrezza per molti anni. Adesso sta cambiando un po', fortunatamente negli ultimi tempi, nel modello estetico femminile. Cioè non solo le modelle, ma le donne erano veramente scheletriche. Pensate all'anoressia, non nasce solo da questo, ma certamente questo ha avuto un effetto disastroso anche sulla quantità, milioni di ragazze che dovevano assolutamente rispecchiare quel modello di estetica. Ecco. Allora. In un'attrice, come vi dicevo, un'autrice francese che si chiamava Florence Dupont, in un libro molto divertente che si chiamava Omero ed Allas, ha spiegato anche tutte queste cose, spiegando appunto il ruolo di queste delle novele nella trasformazione della nostra cultura. Ma cosa possiamo concludere da tutto questo discorso? che nella nostra società oggi esistono modelli di cultura e modelli di vergogna, elementi di culture di colpe, di culture di vergogna, che rispetto al mondo greco ovviamente sono molto diversi. Ecco, quello che forse possiamo dire è che la vergogna è stata oggi è dislocata, è stata dislocata. Perché? Perché sono cambiati i modelli di comportamento. Ma se sono diversi i valori, il meccanismo è lo stesso. Cioè, chi non si adatta al modello, quale che sia, oggi, ovviamente, il modello dell'uomo, il modello di successo, il modello economico, il modello un po', in un certo senso, il modello vincente di nuovo, e tornano agli elementi antichi. Ecco, si sente inadeguato e si vergogna. Cioè, guardate che anche oggi per molte persone, moltissime persone, quello che è più importante non è, è essere detti. Ecco, del che ovviamente non ha colpa la televisione, con questo non voglio dire che la colpa di tutto questo sia la televisione. Ha colpa a chi se ne è servito e se ne serve per propagandare questi tipi di modelli di comportamento. Come della tecna e del progresso di cui parlavo prima, della vergogna, si può fare buon uso e si può fare cattivo uso. Ecco, l'uso che è stato fatto recentemente della vergogna dai nostri mass media purtroppo è stato estremamente negativo. E quindi, io credo che tra gli obiettivi di una politica futura che è molto difficile individuare in un momento come questo, ma è ovvio che la prima cosa è la ricollocazione dei valori. Cosa che è evidentemente di lunghissimo periodo, ma io credo che sia una condizione indispensabile per la costruzione di un futuro che speriamo sia un po' migliore del presente. Grazie. Allora, domande? Non miniconferenze, domande? c'è un microfono abbastanza alla mano e... avete compreso tutto, vi è tutto chiaro, vi abbiamo annoiato a morte, vi siete annoiati purtroppo. c'è una domanda cioè qui e là poi. Buonasera, mi può dire qualcosa sul concetto di DIC in che senso è cooperativo? Brava, ha ragione, perché mi sono soffermata su Eidos e non su DIC. Sì, mi sono soffermata su Eidos e non su DIC. DIC è una parola difficile perché vedete DIC vuol dire DIC vuol dire la giustizia, DIC vuol dire la giustizia, ma quale giustizia? E' la giustizia che viene, parliamo della polis, DIC, vedete, questo è il discorso di dono di Eidos e DIC sta a indicare il momento nel quale nella polis convivono la vergogna che come vi dicevo continua a convivere socialmente ed è molto importante come modo di controllo sociale e la giustizia. Ma DIC vuol dire tante cose perché la DIC è intanto l'azione giudiziaria, cioè la DIC è l'affermazione di un principio giuridico e un divieto di solito che viene sanzionato se non viene rispettato e quindi nel mondo greco ci sono delle regole per esempio ci sono degli crimini la BIE la BIE è la violenza e la DIC è l'azione di violenza l'azione che viene consentita al cittadino atteniese contro colui che ha violato questa regola. Quindi la DIC da un lato sta a indicare quello che oggi chiamiamo il sistema legale. Però la DIC è anche una parola che è legata al concetto di giustizia che ovviamente non coincide con questo perché non sempre la giustizia coincide con la regola giuridica. Ci può essere una distanza etica fra le due cose o comunque ci può essere chi lo pensa di solito c'è una parte della popolazione che pensa che ci sia una distanza etica e magari c'è una parte della popolazione che pensa che non lo sia. Su questo ci sono discussioni enormi. Molto spesso per indicare la giustizia nel senso non nel sistema legale si usa piuttosto la parola di caiosune però è molto molto difficile veramente distinguere. Ci sono discussioni enormi sull'argomento e credo che non ci sia sarà anche difficile arrivare a una conclusione definitiva perché veramente la terminologia è molto incerta. Devo fare una piccola osservazione sull'influenza nella cultura contemporanea di questa tematica. Esiste un'opera molto acuta di un importante filosofo tedesco che è Max Scheller tradotto in italiano da guida con il titolo pudore e sentimento del pudore che ha molti riferimenti anche alla mitologia tedesca eroia dei tedeschi in cui si svolge la tesi che appunto la vergogna intesa come pudore cioè come protezione della spera personale è un fattore essenziale per la civilizzazione. Sì dunque allora devo dire che non ho letto questo libro prima cosa quindi lo guarderò senz'altro ma mi puoi ripetere l'ultima frase la vergogna intesa come sfera della difesa personale l'hai detto così no? che è importante però quella vergogna lì è un po' diversa dalla idos dei greci mi sembra mi sembra quindi quello che posso dirle perché la idos dei greci non è una difesa della sfera personale è una difesa è un meccanismo è un meccanismo psicologico che agisce all'interno di un individuo e che consente alla collettività di imporre certi comportamenti quindi di imporre non fisicamente ma psicologicamente quindi per quello che capisco c'è una qualche differenza fra questo tipo di vergogna e quello di cui lei parla però dopo se mi dà un'indicazione che scrivo più precisa vado a controllare meglio grazie diciamo c'è un sottile legame perché Scheler svolge l'argomentazione che la difesa personale è legata in qualche modo anche a un senso di inadeguatezza una tensione tra la sfera ideale a cui si vorrebbe appartenere e la sfera reale quindi qualche legame tra le due nozioni la difesa in questo senso allora c'è legame certamente le ringrazio ancora altre domande volevo chiedere questo a me non risulta molto chiara la differenza fra colpa e vergogna perché mi sembra che spesso le due cose possono essere associate inoltre c'è un'altra questione la questione individuale mi viene in mente un vecchio scritto di Bertrand Russell Bertrand Russell era ateo però penso che abbia ricevuto una formazione di tipo religioso protestante e lui diceva che una cosa che l'aveva particolarmente colpito durante la sua diciamo così educazione religiosa era questa che c'era un versetto della Bibbia che diceva non seguirai la moltitudine per fare il male ora questo introduce un elemento individualistico ci sono società che sono strutturate in un modo tale dove l'individualismo viene magari condannato altre che lo lasciano più libero ora mi chiedo questa questione individuale come si inserisce fra colpa vergogna e indipendenza di giudizio personale grazie sono domande difficili come si intanto tra colpa e vergogna sì però certo non è facilissimo distinguerle completamente ma però c'è una differenza fondamentale la colpa è qualcosa il senso di colpa il senso di colpa è quello che tu provi perché pensi di avere meritato una punizione no? quale che sia dal carcere all'inferno o quello che sia quindi temi una punizione ci vuole una punizione ci vuole una minaccia ed è e tu ti senti a disagio non sei contento con te stesso perché ti sei messo in quella situazione ma non ha a che vedere con la con questa soddisfazione con questo desiderio di corrispondere a un modello che è presente nel senso di colpa mi sembra insomma che si possa vedere una distensione fra le due cose anche se certamente non le dicevo come dicevo prima questi due concetti sono stati molto discussi dagli antropologhi dai filosofi ovviamente perché sono difficili ma credo che grosso modo si possono più o meno come dicevo collegare all'esistenza di valori diversi e la colpa è più legata probabilmente a valori come appunto la necessità del perdono per se stessi per il pentimento ecco il pentimento il pentimento nella cultura di vergogna è qualcosa che non sembra proprio presente e come si come si colloca all'interno di tutto questo l'individualità l'individualità vuol dire la libertà dell'individuo quindi di scegliere i comportamenti non lo so sono tutte e due se ho capito bene la domanda sono sia nelle culture di colpa che nelle culture di vergogna ci sono elementi fortemente costrittivi io credo che le culture di vergogna possano essere più coercitive e la paura della vergogna possa essere ancora più terribile e lasciare meno libertà all'individuo del senso di colpa ecco quindi si collocano credo allo stesso modo e con la stessa forza e forse 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 con maggior forza ancora di più nelle culture di vergogna che erano molto poco individualistiche da questo punto di vista ecco credo spero di essere veloce se ho capito bene il signore ha citato Schröder comunque un filosofo tedesco si prima si prima mi riferisco e usa ricorrendo il termine Schande Schande no? Schande è la vergogna pubblica non quella individuale è quella lo scandalo invece lo Scham in lingua tedesca è la vergogna intima ecco il tedesco ha questa doppia accezione e poi c'è anche il termine Strafe che è la punizione la Dücke in qualche modo non la vendetta è la punizione giusta sì ma forse questa distinzione grazie forse questa distinzione c'è anche un po' in greco perché come dicevo prima queste due parole che sono ai dos e dell'encheie sono una la vergogna individuale ai dos è quella che sento io e l'encheie è più lo scandalo cioè quello che gli altri ti viene addosso perché gli altri ti condannano e ti giuricano per quello quindi in qualche misura credo che questa distinzione anzi non in qualche misura questa distinzione c'è anche nel mondo greco per questo per questa cosa non sento bene preso dalla lingua tedesca si sente a mio giudizio la lingua tedesca è molto fedele all'antico greco più dell'italiano e appunto la lingua tedesca rispetta questa duplice questi duplici significati più fedelmente dell'italiano perché in italiano ha ragione lei non abbiamo non credo che avremmo ma sto pensandoci adesso ma non avremmo due parole per dire la vergogna la vergogna e no è vero bisogna fare una perifrasi ha ragione lei la lingua tedesca è più simile da questo punto di vista buonasera dunque io mi chiedevo nella cultura contemporanea ho pensato che la questione dei like che si utilizza nel mondo dei social network quindi like e dislike quindi una cosa mi piace o una cosa non mi piace che richiama anche diciamo il verso che si utilizzava per esempio in Grecia per decidere se una persona deva sopravvivere o meno nei combattimenti in arena mi sembra non so se la rinanzia al termine è giusto comunque mi chiedevo se io penso che ci sia nella nostra cultura quindi il modello da seguire ovvero il modello le persone diciamo danno un voto a un determinato tipo di pensiero o di immagine che viene condivisa oppure che viene diciamo appunto formulata o comunque che viene comunicata esposta agli altri diciamo in questo modo il modello da seguire viene formato in un certo senso a livello orizzontale cioè diciamo dalla base fondamentalmente però i singoli poi che vedono che un determinato tipo di pensiero ha raggiunto un maggior numero di voti positivi rispetto ad un altro tendono a seguire quello perché chiaramente ritengono di poter essere più accettati se pensano con una determinata cosa o condividono con una determinata immagine quindi tra l'altro a parte quindi la questione della formazione del modello di pensiero di contenuto da condividere c'è anche la questione del pollice che ha un significato piuttosto significativo nel senso che è collegata anche all'idea di una sorta di punizione perché quantomeno un tempo il pollice diciamo come si dice adesso verso non me lo ricorderà non mi ricordo significava condanna a morte fondamentalmente mi chiedevo se tutto questo se ci sono stati degli studi che hanno collegato che hanno diciamo confrontato questa attualità con appunto l'Aidos e se si intravede una commissione fra cultura della colpa e quindi diciamo più che altro sul versante della punizione e quella della vergogna che in questo caso è più che altro una vergogna di carattere narcisistico ma molto condizionante lei ha fatto una cosa molto interessante sto pensandoci io non ho in mente nessuno che abbia confrontato tutto quello che abbiamo visto abbiamo detto con queste cose come lei dice il mi piace o non mi piace queste ultime che tra l'altro non so neanche cosa sia io sono completamente digiuna di tutte queste cose devo confessarlo tecnologiche e cos'è quando è sui twitter che si dice qui è sul twitter su facebook su che cosa facebook ebbè non ne so proprio assolutamente niente ho visto qualche volta che ho letto mi piace o non mi piace io sono un po' devo dire devo confessarlo io sono un po' preoccupata da questo di legare da tutte queste cose perché per esempio il tweet è una cosa che mi fa una grande paura perché io sono molto scusi poi vengo alla sua domanda un po' non riesco a seguire tutte queste cose perché ci vuole grande tempo e pazienza per impararle e io la metto altrove ma un po' mi fa paura perché una delle cose che mi fanno più impressione è la perdita soprattutto nei giovani della conoscenza della nostra lingua quando tu vedi le ricerche scopri che un ragazzo non sa per esempio l'aggettivazione non sanno più se tu gli dici chiedi il sinonimo non solo di un aggettivo ma anche di un sostantivo non li sanno perché col tweet usano tre parole che sono sempre quelle allora questo per io mi rendo conto che è un atteggiamento io non sono un misoneista ma queste robe mi fanno un pochino paura e questo anche un po' per giustificarmi di non seguirle assolutamente e di non sapere neanche esattamente cosa sia YouTube però venendo alla sua domanda io non credo perlomeno non mi è capitato di vedere qualcuno che abbia messo a confronto abbia studiato qualcuno tra gli antichisti che abbia studiato tutto questo e se ci fosse probabilmente mi sarebbe caduto sott'occhio quindi proprio credo proprio che non ci sia può anche darsi che sia dovuto al fatto che usano poco questi mass media però non lo so cercherò nelle bibliografie ma non ho mai visto niente una domanda proprio scema sono domande sceme sono sicurezze sceme ma domande no in che modo gli studiosi americani hanno messo a frutto la scoperta che la civiltà giapponese era una civiltà della vergogna beh l'hanno messa a frutto tentando tentando di comportarsi in modo tale da tenere in conto queste loro caratteristiche insomma poi nello specifico quale azione abbiano fatto specificamente per questo non glielo so dire ne credo ne credo che sia stato detto ma mi è sembrata sempre una cosa molto interessante e molto intelligente perché veramente ma pensiamo anche alle nemicizie personali se tu hai un nemico un nemico personale un nemico una persona beh se vuoi riuscire a in qualche modo anche nella discussione o nel comportamento nella vita sociale a diciamo usiamo la parola brutta per sopraffarlo e vincere devi conoscerlo no e mi pare molto intelligente che un popolo che è in guerra con un altro cerchi di conoscere di conoscere quell'altro popolo come dicevo però comunque come l'abbiano messo l'abbiano usato proprio specificamente non lo so allora ma quantomeno allora l'hanno fatto poi non l'hanno fatto più purtroppo buonasera volevo chiedere questo secondo lei questa cultura della vergogna e della colpa perché possano avere adesso un risultato buono nel concreto data la situazione che c'è che conosciamo un po' tutti non potrebbe ecco questa cultura della vergogna della colpa non ho sentito bene l'ultima parte della domanda la ripeto forse lei ha spiegato benissimo la cultura della vergogna della colpa l'evoluzione che ha avuto adesso perché ci sarebbe da parlare per ore non è il caso esaminando la situazione attuale che è quella lei l'ha rapportata la politica grave nel senso che come si potrebbe fare per ottenere il risultato migliore di questa cultura della vergogna se non basando visto che l'informazione è importantissima come lei ha detto perché forma il pensiero le menti e da quello poi viene la conseguenza di tutto il resto quindi questo monopolio cioè questa cultura data questa informazione data in maniera così lei ha parlato della televisione io sono perfettamente d'accordo perché cambi poi potrebbe essere anche internet dove c'è un impazzimento ci vorrebbero forse delle leggi diverse che impediscano questo quindi un cambiamento delle leggi che possa alla radice impedire un abuso dell'informazione che porta a questi risultati ecco non potrebbe essere questa una soluzione basandosi anche ad un adeguamento ai tempi io credo che se così fosse se fosse possibile solo con qualche legge che vieta qualche abuso raggiungere il risultato di cambiare profondamente quelli che sono i modelli di comportamento che ci vengono imposti dai mass media imposti proposti e anche imposti dai mass media beh sarebbe molto bello ma credo che non basti io credo che ci voglia oggi siamo in una situazione tale per cui credo che sia veramente necessaria usiamo la parola una rivoluzione culturale che parta dal basso da noi che cominci attraverso l'educazione ecco io penserei piuttosto attraverso l'educazione a partire dalle scuole inferiori in modo che i ragazzi non vengano esposti solo a questo bombardamento di questi modelli e di questi ideali ma che si possa contrapporre qualcosa d'altro io credo che sia una cosa veramente di lungo periodo non credo sarebbe bello se si potesse risolvere con le leggi ma temo che non sia così io volevo fare una domanda ma in qualche modo ha già risposto se ho ben capito ha parlato di dislocazione perché sono cambiati i modelli i valori e allora mi veniva da chiedere dislocazione per andare dove o scomparsa della vergogna scomparsa della vergogna io credo che la vergogna sia importante e sia inevitabile in qualunque comunità ci sono dei fattori sono atteggiamenti psicologici sono dei fattori che ci inducono a tenere un comportamento o un altro e sono sia la vergogna che la colpa quello che è importante è che questa reazione scatti nei confronti la dislocazione quando parlavo di dislocazione parlavo di dislocazione dei valori e dei modelli di spostarla così che la vergogna scatti quando uno commette un'azione indegna quando una persona si comporta male quando lei mi dice cos'è il male va bene intendiamo quando una persona aggredisce un'altra quando una persona commette un'azione assolutamente considerata dalla grande maggioranza di problemi deve scattare allora non deve scattare quando quella persona non è riuscita ad avere la jaguar ecco è quella la dislocazione no? e perché adesso la vergogna è quando tu non hai non hai la borsa firmata non so chi che costa 4.000 euro ecco quella è la roba la ragazzina che si vergogna perché non ha quella cosa sì buonasera io mi chiedevo per quanto riguarda diciamo il binomio della legge e della vergogna se come visitazione di questo tema in chiave moderna non si può vedere assolutamente un libro che peraltro viene studiato tantissimo nelle scuole che è il buio oltre la siepe in cui l'azione legale è mossa da un padre che vuole nascondere una vergogna e quindi preferisce per coprire la vergogna della figlia fare un processo falso e tutto il tema invece dell'avvocato che difende la persona innocente da questa falsa accusa scusi non ho capito se lei sta parlando di un fatto o di un romanzo un romanzo il buio oltre la siepe che peraltro che io sappia in tutte le scuole superiori viene studiato molto frequentemente è un romanzo americano famosissimo degli anni 60 che parla essenzialmente il tema è contro il razzismo nel sud degli Stati Uniti in cui un padre che ha una figlia che ha avuto una storia amorosa con una persona di colore preferisce accusare l'uomo di colore di violenza e lo fa condannare perché questa persona muore in prigione anche se non era assolutamente colpevole perché questo libro viene fatto leggere così tanto nelle scuole viene fatto studiare molto proprio per il tema legge e vergogna che cos'è il diritto che cos'è la giustizia perché c'è tutto quindi può essere sì ho capito ma il tema è esattamente quello ma questo per esempio è un tema benché io non ritenga che la letteratura americana forse come informazione per i nostri figli debba superare la cultura la conoscenza della cultura europea o greco romana però la vituperata cultura americana quando viene presentata alle scuole per esempio questo libro è assolutamente centrato su questo tema quindi questo però è un discorso che facevo prima deve partire dal basso e dalle scuole sì però non è assolutamente che non esista sicuramente ci vuole che poi venga applicato ci vuole tempo sì no ci vuole che i ragazzi lo maturino che lo interiorizzino certo certo però insomma non è che non esiste come concetto non è neanche vero che tutti i ragazzi vivono solo su facebook o che facebook non debba essere un metodo per fare queste cose niente così volevo dire che io e i miei figli non gliel'ho fatto leggere io e tutte e due a scuola l'hanno letta purtroppo ci sento malissimo non fa niente mi sento male io rimbordo molto ma non fa niente però ho capito ho detto una cosa interessante sì buonasera sono sono qua allora due domande ancora e basta perché poi il volevo domandare si può fare un commento relativamente alla alla vergogna era la colpa portata nella nella cultura protestante e nella cultura cattolica perché la cultura cattolica ha trovato forse il modo di liberarsi dalla colpa ha trovato il modo di liberarsi dalla colpa vuol dire con la confessione esatto sì 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 certo infatti infatti ed è ed ha delle conseguenze molto molto interessanti secondo me questo perché una delle cose che mi hanno colpito di più io passo spesso dei lunghi periodi negli Stati Uniti e la differenza fra chi ha una cultura io non sono cattolica ma ho una ho avuto una cultura cattolica anch'io ovviamente come tutti e i protestanti è proprio questa e devo dire che non so se sia un bene o un male ma noi viviamo come noi sì chi ha chi ha la confessione è qualche cosa che aiuta evidentemente a sopportare con maggior leggerezza i problemi della vita sì i protestanti mi sono sempre sembrati molto più tormentati di noi ha ragione lei certamente dai sensi di colpa noi abbiamo questa grande cosa della confessione che è una grandissima invenzione per chi ci crede naturalmente però la differenza c'è ha ragione professoressa scusi che intervengo ancora volevo riagganciarmi al discorso che lei ha fatto molto appropriato sulla povertà di linguaggio dei giovani oggi la povertà di aggettivazione io sono perfettamente d'accordo con lei io insegnavo nelle scuole superiori italiano quindi me ne sarò resa ben conto però devo dire che quando i ragazzi arrivano al liceo ovvero nella scuola secondaria è già tardi è già tardi e si fa una fatica enorme per cui questo lavoro sul linguaggio deve assolutamente iniziare nella scuola primaria tutto deve iniziare nella scuola primaria secondo me adesso salto di palo in frasca quando si parla delle discriminazioni sessuali e di un certo maschilismo perché i ragazzini hanno e lì se non si parte dalla prima dalla prima volta in cui questi entrano in una classe non è inutile fare no agire più tardi ha assolutamente ragione lei ma la mia domanda è questa a che età questi ragazzini cominciano a fare i tweet eccetera e a mandarli probabilmente quando sono ancora molto molto giovani quanti? sette che orrore sì sì mi sono terrorizzata da questa cosa il tweet mi dà fastidio devo confessare che mi dà fastidio non solo quando lo usa ecco io poi per tante ragioni una ragione ogni volta che leggo che il presidente del consiglio ci comunica le sue cose con un tweet io ho una roba proprio che ma no ma no ma non si può ma non si può ma anche per un rispetto per le istituzioni per quello che e poi certo se questo è l'esempio i bambini a sette anni lo faranno lo temeranno a fare una domanda brevissima secondo lei la cultura dell'Aidos dell'Aidos della vergogna presuppone una società più democratica un'esemplificazione mentre la cultura della Diche può presupporre una società strutturata più autoritaria esemplifico la vergogna mi può portare copiando un pezzo di tesi a dimettermi se facendo un riferimento specifico alla Germania la Diche mi può comportare in una struttura di legge ad aspettare la prescrizione per non essere colpevole quindi mi sembra che ritornando all'origine greca la struttura dell'Aidos forse sia meno autoritaria senza scomodare Pericle è meno autoritaria? sì sì no io non credo sa che sia meno autoritaria io non credo che sia meno autoritaria penso che veramente possa essere una sanzione psicologica spaventosa ci sono tanti degli studi sulle società che erano puramente nessuno è mai una cultura di vergogna pura ma molto di vergogna le società che una volta si chiamavano anche primitive dove il diritto non c'era ancora adesso si chiamano di interesse etnografico beh lì la gente si suicida per la vergogna si suicidava per la vergogna io credo che possa essere altrettanto costrittiva non credo che sia più anche perché alla vergogna non sfuggi mentre alla regola giuridica puoi pensare di sfuggire perché tu dicevi è sanzionato sì ma se non mi prendo non vado in galera no? quindi credo che non ci siano questa differenza credo di no ma io volevo semplicemente fare un'osservazione sì il mondo di facebook in fondo il mondo di facebook in fondo è come se avesse parcellizzato e disperso quella che sia la vergogna che la colpa nel senso che le persone gli individui si sentono collegati ad una dimensione che non ha più nulla a che fare con la polis e con lo e con lo stato ma è un qualcosa diciamo di totalmente differenziato e totalmente indifferente rispetto alla polis per cui la discussione tra vergogna e colpa e della diche e la diche diventa quasi inesistente come parametro non so se mi sono spiegato ha ragione perché la comunità di chi usa questi mezzi è una comunità che non ha confini che non ha limiti che non non è non so neanche se si può definire una comunità ha un numero di interlocutori tali per cui sì credo che lei abbia ragione in questa osservazione assolutamente un'ultima domanda davvero perché sì volevo chiedere se si potrebbe fare un paragone tra Achille la figura di Achille e la figura cioè le figure che vengono proposte sotto i regimi autoritari che mi viene in mente nell'unione sovietica Stakanov ad esempio stakano perché solo quella me ne dica qualcun'altro un paragone fra Achille e un'altra persona non so adesso non me ne vengono in mente altre comunque come esempio di persona un grande astronauta per esempio non Samantha Cristofoletti perché è una donna non so Gagarin Yuri Gagarin che il regime diciamo lo propone come esempio da seguire come perfetto cittadino è vero ma ma c'è una differenza certo c'è anche oggi ci sono questi 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 modelli di comportamento di persone che possono essere anche eroi cinematografici no? come si chiamava quello lì famoso vabbè non mi viene possono essere anche eroi di grandi avventure cinematografiche ma il problema è che Achille era di nuovo è la differenza dei valori che vengono proposti come modelli i valori i valori di cui Achille è il campione sono valori esclusivamente competitivi ecco oggi mi sembra che la cosa sia un po' diversa fortunatamente però non può escludersi che ne salti fuori un altro di quel genere e sono il modello corrisponde alla a quello che in quel momento una certa comunità un certo gruppo vuole vede come ideale quindi cambia molto nel tempo quello di Achille non era un bel modello diciamoci la verità allora grazie a tutti voi grazie a Eva Cantarella e speriamo di rivederci con un ciclo simile sempre a cura mia e sua se lei lo vorrà lo desidererà il prossimo anno grazie buona serata grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti